Prova il tocco sotto per scavalcare il portiere. Palla ancora lì! Ti ruba benissimo il pallone. Gran palla in mezzo. Immobile! No! 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 ...doppia. Taglietta. Devele! Palla ancora lì! Oh, guarda che dugga! 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 E' davvero un grande vantaggio! Tantico! Crossa verso il centro! Super intervento nel portiere! La deviazione sul... Quando i difederatori stanno accanto a Ciro Ciro! Non mi vanno a percorrere a Ciro! Iiii! Oh no! Sto a fangare in giro qualcosa! Perché si è orvulo! Pallone! 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 Pallone!